Oggi abbiamo discutito la cava di Chauvet, cosa potremmo dire? La cava di Chauvet è stata scoperta 25 anni fa, è stata molto bene protegita prima che è stata scoperta, perché è stata scoperta naturalmente, perché è stata scoperta 22.000 anni fa da un rocforte, e ciò che è stato scoperto è che è stata scoperta da speleologi Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel, e Cristian Hilaire, e questi tre speleologi hanno scoperto altri casi prima, e che hanno avuto una buona esperienza, quindi quando arrivano, avevano un reflexo molto buon, che era di mettere una tragettica plastica sul lato, che era una buona idea, e ha protegito molto bene la cava. Dopo questo, il Stato Franci ha deciso di impostare una polizia di preservazione molto rigorosa, perché avevamo una buona esperienza in altre cava, come Lascaux, perché avevano troppo persone, troppo visite, il equilibrio interno dell'atmosfera era stato scoperto. Quindi, non ho deciso di aprire il pubblico, per proteggere, e, allo stesso tempo, per creare una replica, per ottenere questo mervelo, per ottenere le persone, perché questo apprezzo alla humanità. è molto importante. E' un'altra domanda. Quali pensi e quali la vostra opinione del BMTA? Beh, è un incontro, un incontro, mi sono molto impressione, perché, beh, ci sono molte cose, perché voglio andare a ascoltare a qualcuno, ma è troppo, quindi è davvero difficile di fare una scuola.